Musica Buonasera e ben ritrovati da Roberto Maggi con l'informazione di Telebari. In primo piano torniamo a parlare della nostra inchiesta sugli alloggi popolari anziani, disabili e persino una non vedente reclusi in casa perché senza ascensore in via Candura 36 nulla si muove. Il consigliere di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre scrive una lettera aperta al sindaco di Bari Antonio De Caro, al presidente della regione Michele Emiliano, al prefetto Marilisa Magno. Tutti i dettagli nel servizio di Serena Russo. Ben 48 giorni senza ascensore e senza luce nelle zone condominali del palazzo. Una situazione che già in condizioni di normalità creerebbe non pochi disagi. Immaginate se foste invece persone anziane, di età compresa tra i 70 e gli 80 anni, con problemi di diambulazione. O peggio, immaginate se foste dei non vedenti. E questi non sono esempi a caso. Accade realmente nella palazzina di via Candura 36, quella di proprietà di Arcapuglia. Questa storia ve la raccontiamo ormai da settimane. La notizia è che nonostante l'ordine della regione Puglia, rivolta all'agenzia regionale, di pagare il debito creato dalle utenze non versate dalla famiglia che occupa abusivamente la sala condominiale del piano terra, nulla cambia. Ci siamo rivolti a tutti gli enti preposti, ma ciò che resta sono solo una serie di promesse non mantenute. Tanto che, questa volta, a mettere tutto nero su bianco, è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, che questa mattina, dopo aver raccolto per l'ennesima volta le lamentele delle famiglie di via Candura, ha deciso di scrivere una lettera aperta rivolta non solo all'assessore regionale competente Alfonso Pisicchio, ma anche al sindaco di Bari, Antonio De Caro, e al presidente della regione Puglia, Michele Miliano. Io mi metto nei panni delle persone oneste di questa città, che si trovano di fronte ai clan delinquenti che occupano abusivamente determinati immobili. Che fanno? Si rivolgono all'istituzione, l'istituzione che risposta da nessuna. Ecco perché io, essendo istituzione anche, sia pure l'opposizione, mi imporrò affinché le persone oneste, che sono il 99% di questa città, siano tutelate. Perché c'è un principio in sociologia. Se l'antistato è più forte, lo Stato, la gente che fa parte, crede nello Stato, non ci crede più. Proseguiamo con la cronaca cittadina. La cronaca cittadina potrebbe essere stata una distrazione alla guida a mandare fuori strada un ottantenne che in tarda mattinata stava percorrendo Corso Cavour a Bari. L'anziano signore, alla guida di una Volkswagen Polo, ha infatti abbattuto una serie di faretti in pietra sul marciapiede antistante al Teatro Petruzzelli, in pieno centro città. Secondo quanto appreso da alcuni testimoni, l'ottantenne, dopo aver svoltato Davia Cognetti, avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro i blocchi di pietra, distruggendo anche la sua auto. Per fortuna nell'anziano conducente, nel compassante rimasto ferito, sul posto è intervenuto la polizia locale che dovrà ricostruire esattamente l'accaduto e un'ambulanza del 118. Ci spostiamo invece ad Acquaviva delle Fonti, il gruppo del Tribunale di Bari infatti ha prosciolto il 52enne di Acquaviva Maurizio Zecca dal reato di violenza sessuale nei confronti di una dottoressa in servizio presso un ambulatorio di guardia medica nella provincia di Bari. Per difetto di tempestiva querela, la presunta vittima infatti aveva denunciato l'uomo oltre il termine di sei mesi previsto per legge all'epoca dei fatti, nel 2017 era prolungato un anno con la nuova norma del Codice Rosso. Già in sede cautelare, il Tribunale del Riesame di Bari aveva dichiarato il reato improcedibile per cui era tardiva della persona offesa e aveva scarcerato Zecca concedendogli gli arresti domiciliari per il solo reato di Stolking, un reato per cui l'uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione in un processo che pende attualmente in appello. Cambiamo completamente argomento, parliamo di scuole, la carenza di personale infatti persiste con gravi disservizi per studenti e genitori. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale alle politiche giovanili Paola Romano. Una norma contenuta nel testo unico degli enti locali che costringe l'amministrazione a non procedere a nuove assunzioni fino all'approvazione del bilancio consolidato del Comune che solitamente approda in consiglio alla fine di ottobre. E' vittima della legge, si dichiara l'assessore comunale alle politiche giovanili Paola Romano da giorni in prima linea contro le lamentele dei genitori che stanno facendo i conti con la carenza di personale nelle scuole, in particolare nei nidi comunali e gli istituti per l'infanzia. La coperta è cortissima e allo stato dei fatti ad oggi gli insegnanti presenti non possono neanche permettersi un giorno di malattia perché a sostituirli non ci sarebbe più nessuno. Ancora più grave la mancanza di insegnanti di sostegno per i bambini con disabilità. Sono andate in pensione tantissimi insegnanti in tutta Italia e con la caduta del governo è stato bloccato il nuovo concorso e quindi si conta solamente nella provincia di Baribatte la mancanza di circa 150 insegnanti. L'ufficio scolastico regionale una settimana fa ha fatto l'ultima chiamata e a questa chiamata si sono presentate 18 persone. Quindi adesso la palla passa alle scuole che possono fare le chiamate dirette però anche le scuole sono molto in difficoltà. Ma almeno una buona notizia arriva. Parte da oggi infatti il tempo pieno negli asili nidi comunali. I bimbi potranno trattenersi a scuola fino alle 18. Restiamo in città dove una grossa falla nella condotta di via Cifarelli ha provocato la riduzione della pressione idrica ma è previsto per domani il ripristino dell'erogazione dell'acqua. Comunicarlo è a Cupi che ha spiegato e non ha noto l'origine del problema. Il tronco alimenta diversi quartieri. Nel corso dell'intervento i tecnici hanno rilevato un'interferenza costituita da una fondazione in calcestruzzo presumibilmente delle ferrovie dello Stato e la rete ferroviaria italiana che sta provocando il rallentamento dei lavori. Attualmente in alcune zone del quartiere Libertà, Miora San Cataldo e in alcune vie del quartiere Picone è in corso una riduzione della pressione dell'erogazione idrica per limitare eventuali disservizi. A Quei d'Ottopugliesi ha predisposto la fornitura di due autobotti. I lavori rassicurano di ripristino dei servizi. Proseguiranno ininterrottamente. Ci spostiamo invece in aeroporto. Mercoledì nero del trasporto aereo. Oggi sciopero di 24 ore di piloti assistenti di volo di Alitalia indetto dalla federazione che riunisce i lavoratori aderenti ad Ampac, Ampav e ANP. Nel corso della giornata garantite due fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 ma i voli cancellati dall'Italia sono comunque 198. Di questi 16 riguardano l'aeroporto Caro Voitila di Bari. Sono stati annullati 8 voli che avrebbero collegato l'aeroporto di Bari con quello di Roma-Fiumicino. 4 per tratta e 8 voli sulla tratta Bari-Milano-Malpensa. Anche in questo caso 4 in partenza dalla Puglia e 4 dalla Lombardia. Tutte le attività operative però si sono svolte regolarmente con ottimi livelli di puntualità. Ha tenuto a precisare la compagnia in una nota. Cambiamo argomento. Il cibo e il suo universo i protagonisti del progetto Mangia Sano in Masseria che prende il via il 28 ottobre prossimo. Tutti i dettagli nel servizio. Riteniamo che l'educazione alimentare non possa non passare attraverso proprio l'educazione, la formazione degli studenti. 4 giornate in Masseria alla scoperta del buon cibo non solo come elemento di sana nutrizione ma come valorizzazione del territorio pugliese. Un percorso di educazione alimentare che parte il 28 ottobre nella Masseria Spartaglio di Putignano con la visita delle scolaresche guidate da una biologa che parlerà di grano e farine. L'itinerario prosegue fino al 2 dicembre con altri appuntamenti in tre diverse masserie di Puglia aperte di giorno agli studenti e di sera al pubblico adulto al costo di 10 euro e su prenotazione obbligatoria. Il progetto Mangiasano in Masseria dell'Associazione Fantarca vede il sostegno della Regione Puglia e del Dipartimento di Medicina dell'Università di Bari. Un'occasione per sensibilizzare le famiglie ad un'alimentazione sostenibile incentrata sulla biodiversità del cibo, elementi essenziali per la salute. Ma credo che sia veramente importante, anzi il Ministero della Salute ha un progetto che si chiama Occhio alla Salute che cerca di studiare quanti sono i bimbi nello stato di sovrappeso e obesità all'età di 8-9 anni. Da questo punto di vista la Puglia nell'inizio degli anni 2000 era il secondo posto per frequenza purtroppo e nell'anno 2016, ultimo anno, siamo scesi al quinto posto e quindi io credo che questo sia avvenuto proprio perché si è andati nelle scuole grazie ai giornalisti, grazie a tutto l'impegno dei docenti dei professori e anche dei medici e degli studenti per poter dire, soprattutto in età infantile e adolescenziale la rilevanza del cibo giusto, dello stile di vita e della capacità di aderire a tutte quelle che sono le manovre per ammalarsi di meno. E all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari la prima tappa di Infamiglia all'improvviso la campagna che si articola in una web fiction per far emergere spiragli di positività nel percorso dei pazienti ce ne ha parlato il professor Domenico Galetta responsabile di Oncologia Medica Toracica dell'Istituto intervistato dalla nostra Maria Alessia Sforza L'obiettivo di questa campagna è semplice e ambizioso allo stesso tempo è quello di dare fiducia sul fatto che per il tumore del polmone c'è una offerta terapeutica sempre più ricca sempre più raffinata e più personalizzata ma per la prima volta vogliamo dare attenzione anche a un altro aspetto che è quello che avviene quando in una famiglia per qualche ragione compare la diagnosi di tumore questa diagnosi è devastante è una diagnosi che cambia completamente gli equilibri familiari che modifica la percezione anche che le stesse persone hanno di sé hanno la percezione di essere malati i familiari hanno la percezione di che il papà e il nonno non sia più il papà e il nonno sia il malato e vengono meno alcune convinzioni che uno pense che rimangono sempre stabili e cristallizzate nel tempo allora noi vogliamo guardare anche a quello che avviene in questo momento soprattutto per rafforzare l'idea che una famiglia solidale diventi anche una famiglia terapeutica è il motivo principale per cui vogliamo attraverso questo web fiction che non è una cosa, non è una commedia, non è una cosa drammatica è una sorta di equilibrio reale su quello che avviene su quello che può avvenire nella vita di tante persone e che rappresenta un momento al quale finora non si era prestato secondo noi molta attenzione e dobbiamo fermarci per qualche istante per la pubblicità restate con noi, ci ritroviamo tra pochissimo e ripartiamo dalla cronaca giudiziare al Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto ritenendola inammissibile la richiesta di affidamento ai servizi sociali avanzata dall'imprenditore di Corato Flavio Dintrono per evitare misure detentive l'imprenditore deve scontare una condanna definitiva a 5 anni e 4 mesi 18 mesi dei quali già scontati in custodia cautelare per usura ai danni di commercianti del nord barese l'imprenditore fu arrestato nel 2007 dal Gico della Guardia di Finanza nell'operazione Fenerator Dintrono è noto alle cronache per essere stato secondo la procura di Lecce il corruttore dei magistrati tranesi Antonio Savasta e Michele Nardi che si sarebbero adoperati in cambio di denaro e altre utilità per manipolare numerose vicende giudiziarie pendenti a Trani in cui l'imprenditore era coinvolto come parte offesa, come indagato, imputato torniamo a parlare invece della nostra inchiesta sugli alloggi popolari anziani e disabili, persino una non vedente reclusi in casa perché senza ascensore in via Candura 36 nulla si muove il consigliere di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre scrive una lettera aperta al sindaco di Bari Antonio De Caro e al presidente della regione Emiliano e al prefetto Marilisa Magno Ben 48 giorni senza ascensore e senza luce nelle zone condominali del palazzo una situazione che già in condizioni di normalità creerebbe non pochi disagi immaginate se foste invece persone anziane di età compresa tra i 70 e gli 80 anni e con problemi di deambulazione o peggio, immaginate se foste dei non vedenti e questi non sono esempi a caso accade realmente nella palazzina di via Candura 36 quella di proprietà di Arcapuglia questa storia ve la raccontiamo ormai da settimane la notizia è che nonostante l'ordine della regione Puglia rivolta all'agenzia regionale di pagare il debito creato dalle utenze non versate dalla famiglia che occupa abusivamente la sala condominiale del piano terra nulla cambia ci siamo rivolti a tutti gli enti preposti ma ciò che resta sono solo una serie di promesse non mantenute tanto che questa volta a mettere tutto nero su bianco è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre che questa mattina dopo aver raccolto per l'ennesima volta le lamentele delle famiglie di via Candura ha deciso di scrivere una lettera aperta rivolta non solo all'assessore regionale competente Alfonso Pisicchio ma anche al sindaco di Bari Antonio De Caro e al presidente della regione Puglia Michele Emiliano io mi metto nei panni delle persone oneste di questa città che si trovano di fronte ai clan delinquenti che occupano abusivamente determinati immobili che fanno? Si rivolgono all'istituzione l'istituzione che risposta da nessuna ecco perché io, essendo istituzione anche, sia pure l'opposizione come dire, mi imporrò affinché le persone oneste che sono il 99% di questa città siano tutelate perché c'è un principio in sociologia se l'antistato è più forte lo Stato, come dire, la gente che fa parte diciamo, crede nello Stato non ci crede più Il gruppo del Tribunale di Bari Antonella Caffagna ha prosciolto il 52enne di Acquaviva delle Fonti Maurizio Zecca del reato di violenza sessuale nei confronti di una dottoressa in servizio presso un ambulatorio di guardia medica della provincia di Bari per difetto di tempestiva querela la presenta vittima infatti aveva denunciato l'uomo oltre il termine di sei mesi previsto per la legge all'epoca dei fatti nel 2017 ora prolungato a un anno con la nuova norma del codice rosso già in sede cautelare il Tribunale del Riesame di Bari aveva dichiarato il reato improcedibile per querela tardiva della persona offesa e aveva scarcerato Zecca concedendogli gli arresti domiciliari per il solo reato di stalking un reato per cui l'uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione in un processo che pende attualmente in appello e torniamo alla cronaca parlando di Bari due pusher di 22, 31 anni sono stati arrestati dai carabinieri al quartiere Madonnella perché colti in fragranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti il 22enne è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di marijuana un acquirente l'immediata perquisizione dei carabinieri ha consentito di rinvenire all'interno di una cabina Enel poco lontano da dove era avvenuto lo scambio oltre 15 dosi di marijuana nonché la somma di 150 euro ritenuta a provento dell'attività di spaccio il 31enne invece è stato beccato dai carabinieri mentre cedeva a un cliente una bustina contenente mezzo grammo di cocaina i due spacciatori così sono finiti agli arresti domiciliari mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti torniamo invece a parlare della protesta dei pescatori che c'è stata ieri a Bari la Digos indaga su quanto accaduto nel corso della manifestazione di protesta delle marinerie dove sono rimasti feriti anche due agenti della polizia le novità da Cristina Ferrigni sono al vaglio degli investigatori della Digos le immagini delle telecamere che hanno immortalato la protesta dei pescatori nel corso della quale ieri due poliziotti sono rimasti feriti dall'esplosione di un petardo una bomba carta lanciata ai piedi degli agenti in servizio d'ordine che hanno riportato danni temporanei all'udito i due poliziotti feriti sono stati dimessi ieri sera dall'ospedale e per fortuna non hanno riportato lesioni permanenti resta grave quanto accaduto nel corso della manifestazione il corteo delle marinerie arrivate da tutta la Puglia e dalla Calabria non ha rispettato i limiti stabiliti dal percorso avrebbe dovuto arrestarsi davanti la sede dell'autorità portuale ma in massa avrebbe tentato invece di invadere il porto attraversando il primo varco e lanciando i primi fumogeni poi l'avanzata verso il castello Svevo è il secondo tentativo di entrare nell'area portuale dove è stato lanciato il petardo che ha ferito i due agenti nella confusione è rimasto ferito anche un carabiniere nel mirino degli investigatori non solo chi materialmente ha lanciato la bomba carta ma anche tutti i manifestanti che hanno infranto le regole potrebbero essere responsabili di violazioni e illeciti penali che vanno dalla resistenza pubblico ufficiale alla violenza privata al reato di blocco stradale e restiamo al porto di Bari però con una notizia di ben altro tenore perché il porto di Bari è nella classifica dei top 20 dei porti europei per la croceristica con un buon diciottesimo posto e tra i primi dieci scali italiani l'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale è sesta in Italia ottavo posto per il porto di Bari con un incremento di passeggeri di oltre il 6% e settimo posto della Puglia nella graduatoria delle regioni italiane la classifica delle società di ricerca e consulenza risposte turismo che presenterà i dati sull'attività croceristica negli scali portuali nazionali in quelli del Mediterraneo nel corso della nona edizione del forum annuale Italian Cruise Day che si terrà il prossimo 18 ottobre presso l'ex manifattura Tabacchi di Caglia i riporti sono strategici per i flussi di turisti croceristi commenta l'assessore all'industria turistica e culturale Loredana Capone ma anche per lo sviluppo del turismo nautico che ha una capacità di spesa rilevante Ci spostiamo invece a Monopoli la scommessa è stata vinta oggi ci apprestiamo a vivere una nuova fase ambientale per la città Angelo Annese sindaco del comune Varese questa mattina a Palazzo di Città ha annunciato i prossimi passi dell'amministrazione comunale di Monopoli in tema di ambiente e rifiuti la grande novità è che entro dicembre il porta a porta sarà esteso a tutto il Murattiano e le contrade di mare con la consegna dei kit a tutti i residenti ogni contenitore sarà fornito di un chip che consentirà di collegare il rifiuto al cittadino e portare così alla tariffazione puntuale sulla base del rifiuto prodotto è prevista altresì l'integrazione dei mastelli e buste per il centro storico e a partire dal primo febbraio scompariranno tutti i cassonetti anche nelle contrade ogni appensa sarà dotata di carrellati da 240 litri per umido e secco e sarà raggiunta dagli operatori direttamente a casa contestualmente si attuerà un'attività di bonifica e di controllo anche con fototrappole delle zone attualmente occupate dai cassonetti torniamo invece a Bari perché una grossa falla nella condotta di via Cifarelli ha provocato la riduzione della pressione idrica ma è previsto da domani il ripristino dell'erogazione dell'acqua a comunicarlo è a QP che ha spiegato in una nota l'origine del problema il tronco alimenta diversi quartieri nel corso dell'intervento i tecnici hanno rilevato un'interferenza costituita da una fondazione in calcestruzzo presumibilmente delle ferrovie dello Stato o rete ferroviaria italiana che sta provocando il rallentamento dei lavori attualmente in alcune zone dei quartieri Libertà Mirassa in Cataldo in alcune vie del quartiere Picone è in corso una riduzione della pressione dell'erogazione idrica per limitare eventuali disservizi a quell'ottopuliese ha predisposto la fornitura di due autobotti i lavori rassicurano di ripristino dei servizi proseguiranno ininterrottamente il cibo e il suo universo i protagonisti sono i protagonisti del progetto Mangiasano in Masseria che prende il via il prossimo 28 ottobre andiamo a sentire l'intervista riteniamo che l'educazione alimentare non possa non passare attraverso proprio l'educazione la formazione degli studenti quattro giornate in Masseria la scoperta del buon cibo non solo come elemento di sana nutrizione ma come valorizzazione del territorio pugliese un percorso di educazione alimentare che parte il 28 ottobre nella Masseria Spartaglio di Putignano con la visita delle scolaresche guidate da una biologa che parlerà di grano e farine l'itinerario prosegue fino al 2 dicembre con altri appuntamenti in tre diverse masserie di Puglia aperte di giorno agli studenti di sera al pubblico adulto al costo di 10 euro e su prenotazione obbligatoria il progetto Mangiasano in Masseria dell'Associazione Fantarca vede il sostegno della Regione Puglia e del Dipartimento di Medicina dell'Università di Bari un'occasione per sensibilizzare le famiglie ad un'alimentazione sostenibile incentrata sulla biodiversità del cibo elementi essenziali per la salute ma credo che sia veramente importante anzi il Ministero della Salute ha un progetto che si chiama Occhio alla Salute che cerca di studiare quanti sono i bimbi nello stato di sovrappeso e obesità all'età di 8-9 anni da questo punto di vista la Puglia nell'inizio degli anni 2000 era il secondo posto per frequenza purtroppo e nell'anno 2016 ultimo anno siamo scesi al quinto posto e quindi io credo che questo è avvenuto proprio perché si è andati nelle scuole grazie ai giornalisti grazie a tutto l'impegno dei docenti dei professori e anche dei medici e degli studenti per poter dire soprattutto in età infantile adolescenziale la rilevanza del cibo giusto dello stile di vita e della capacità di aderire e tutte quelle che sono le manovre per ammalarsi di meno restiamo in tema di salute all'Istituto Tumori di Bari Giovanni Paolo II la prima tappa di Infamiglia all'improvviso la campagna che si articola in una web fiction per far emergere spiragli di positività nel percorso dei pazienti ce ne ha parlato il professor Domenico Galetta responsabile di oncologia medica toracica dell'istituto l'obiettivo di questa campagna è semplice e ambizioso allo stesso tempo è quella di dare fiducia sul fatto che per i tumori del polmone c'è una offerta terapeutica sempre più ricca sempre più raffinata e più personalizzata ma per la prima volta vogliamo dare attenzione anche a un altro aspetto che è quello che avviene quando in una famiglia per qualche ragione compare la diagnosi di tumore questa diagnosi è devastante è una diagnosi che cambia completamente gli equilibri familiari che modifica la percezione anche che le stesse persone hanno di sé hanno la percezione di essere malati i familiari hanno la percezione di che il papà e il nonno non sia più il papà e il nonno sia il malato e vengono meno alcune convinzioni che uno pensi che rimangono sempre stabile cristallizzate nel tempo allora noi vogliamo guardare anche a quello che avviene in questo momento soprattutto per rafforzare quella che è l'idea che una famiglia solidale diventi anche una famiglia terapeutica è il motivo principale per cui vogliamo attraverso questo web fiction che non è una cosa non è una commedia non è una cosa drammatica è una è una sorta di equilibrio reale su quello che avviene su quello che può avvenire nella vita di tante persone e che rappresenta un momento al quale finora non si era prestato secondo noi molta attenzione e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale l'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social e sul nostro sito www.telebari.it a tutti un buon proseguimento di serata il meteo è offerto da sgservicesud.it amici tra i bimito benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che nel complesso sarà buona in gran parte d'Italia ancora un po' di variabilità insisterà nelle estreme regioni meridionali la pressione atmosferica sullo Ionio resta relativamente contenuta e poi qualche nuvola di passaggio a norma in rapido allontanamento infatti controlliamo la nuvolestà prevista sull'Italia in realtà come vedete poco nulla ancora diciamo all'estremo sud un po' di variabilità qualche annuvolamento si fa ancora vedere nelle regioni settentrionali su parte di quelle centrali ma davvero nubi di poco conto piano piano lasciano spazio ascherite sempre più decise come precipitazioni non molto da segnalare qualche occasionale acquazzone forse ancora qualche temporalino potrebbe interessare i settori ionici di Calabria e Sicilia ha inizio giornata qualche gocciolina di pioggia tra Toscana Umbria Marche e Romagna ma in rapido allontanamento quindi in definitiva ci attendo un giovedì comunque discreto qualche nuvola di passaggio dicevamo ci sarà ancora ma con schierite via via sempre più ampie ecco la segnalazione di qualche acquazzone nelle estreme regioni meridionali ma poi a partire da venerdì anche al sud situazione più tranquilla con questo è tutto per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo il meteo è offerto da sgservicesud.it grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti